Che facciamo oggi? Gnocchi fatti in casa Bene sì, gnocchi fatti in casa con radicchio quello vero vedete? Trevigiano quello vero, perfetto poi uova, patate rosse buone, poi noci, scalogno, orgonzola, burro e tanto tanto, tanto ci stiamo, stiamo lì perché no, un po' di panna fresca e della farina, eccola qua iniziamo subito a fare i gnocchi le patate, l'ho fatte l'ho cotte in acqua fredda, la fredda poi l'ho portata in abollizione ma l'ho fatte raffreddare nella loro acqua taglio metà così la buccia rimane sul, vedete? su questo pezzo dello schiacciopatate mettiamo subito un po' di sale allora, patate rosse o una bella patata vecchia, perché vecchia? perché contiene meno acqua quindi, in questo caso, la vecchia è meglio poi, andiamo avanti la farina la farina 00 provo così questa è tutta una cosa pesi? possiamo, ma è una cosa un po' così all'incirca mettiamo un uovo, no, mezzo ma come si fa a mettere mezzo uovo? così faccio così rompo l'uovo mescolo vediamo un pochino ecco qua, e questo è mezzo va bene? e dentro una bella bulla, una bella insalatiera incominciate a lavorarla dentro un altro pochino di farina non rimane più appiccicato sulle pareti quindi si sta asciugando ok? mi racconto, tutte piccole cose che sentite solamente con le mani con le mani si sente tutto vado allora, metto qui l'impasto allora come in questo caso la pietra ci aiuta tanto o se no, se volete, potete anche utilizzare le tavole quelli di legno ecco qua, vedete? che bello, mettiamo un po' di farina spolveriamo un pochino così sul banco di lavoro semplice, semplice, semplice oh, i gnocchi è una stupidaggine farli, eh? piano piano, ragazzi, eh? piano piano, mi deseguite, riesce tutto facciamo una prova? Sì! rispondo a... vabbè, come diciamo in Roma te la cantetta da soli da solo, sì la cantetta da solo, perché facciamo una piccola prova per vedere se viene il nostro gnocco e se non si rompe quindi che si fa? facciamo non l'hai mai fatta a casa? con la mamma così stendiamo Papà papà pappà pappà Poi tagliamo Poi, che formaggio vogliamo dare? Vogliamo dare quella forma che rimanga bella attaccato al sugo Allora, così mia madre faceva fare Spingo e giro Ok? Così Allora, col mio didone vado così E giro, eccolo qua Bello rigato, guardate che bello Facciamo una prova se si rompono, ok? La facciamo sobollire lentamente l'acqua, appena salgono su, sono pronti a calcare, vedete, come vedete, Roma non manca mai, eh Allora, sono venito su, mettiamo qui dentro, non si sono rotti e adesso assaggiamo anche E' buona la patata Andiamo avanti, quindi, non si sono rotti, il gusto è buono e continuo a farli così Se si fossero rotti, avrei aggiunto un po' più di farina, perché aveva bisogno un po' più di corpo Quindi, sono perfetti così Iniziamo subito adesso alla salsa, facile 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 Scalogno, bella sta musichetta dei papic Grande papic, sottile 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 sottile, coltello che taglia benissimo Eccolo qua, un po' di burro Zacca di quello bello giallo 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 giallo, mettiamo un po' di acqua, così, facciamo sciogliere bene il burro Facciamo sciogliere bene lo scalogno Il radicchio di Treviso IGP Ecco qua Allora, c'è questa parte che non si butta, questo io oggi l'ho pagato 13 euro al chilo E' costoso, ma è tutta un'altra cosa, eh, l'ho comprato qui a Roma Taglio anche questa parte qui, un po' più duretta, che la mettiamo proprio nel soffritto, lì Ecco qua Lascio le puntine, che sono quelle un po' più tenere Tenerissime, però che se non sto mangiando anche l'ansalata Le metteremo proprio alla fine Guardate Dolce, eh, un dolce Metto adesso il gorgonzola Non esagerate, non deve essere troppo invadente Lo sciolgo Mi raccomando, il segreto qual è? Fuoco molto dolce Guardate, sto a 6 Aggiungiamola È fresca, vedete quanto è poco densa Panna da cucina Mmm, che bontà Mentre questo Prende il bollore di nuovo, io vado a cuocere gli gnocchi Perché abbiamo finito Delicatamente Non sono tutti uguali, sono differenti Come ognuno di noi E mica che siamo tutti uguali E lo stesso gli gnocchi Che facciamo a casa, ah, mi sono bruciato Acqua salata in piena ebollizione Appena adesso Salgo da galla, sono pronti Vorrei Che musichetta Adesso Ci abbiamo le noci da aggiungere Così c'è un po' di croccante Poi, un po' di Fresco, ecco qua Un po' lo metto qui Vai Qua è il rumore dell'amore È proprio amore amore vero questo, basta Spengiamo tutto Poi Una grattata di pepe Che tu Guardate qua che bontà E adesso assaggio Ma che cos'è, oh Ma che, ahia Una pralina Al cioccolato Ripiena del mu, ma che è? Bontà Per niente amaro Buonissimo Il gorgonzola A pollo dolce Mi raccomando, eh Buon bontà Ragazzi Stagionale Economico Stavolta Vabbè, la piantina costa 3 euro Una piantina di Di cosa Di radicchio Patata rossa Mi raccomando Con la giusta che fa le patate E tanto, tanto amore Sempre Sempre Mamma mia bontà ragazzi Mmm Mi raccomando E tanto